Dopo la bella e importante vittoria di Olbia il Vole Soverato torna sul Taraflex amico della Palascopa per affrontare Sassuolo per la terza giornata di ritorno della regular season Girone A. Una sfida ancora più importante perché è contro un avversario che all'andata vinse 3-2 contro il Vole Soverato e che adesso occupa il sesto posto quindi il distacco e la corsa del Soverato per cercare di allungare ulteriormente e quindi acquisire la sicurezza di poter andare alla seconda fase è importante. Sì assolutamente nel senso che è una partita difficile che giochiamo contro una squadra ostica in generale ancora più ostica per caratteristiche una squadra che soffriamo in maniera particolare per caratteristiche proprio tecniche. E' chiaro che rispetto alla partita dell'andata sono passati un po' di settimane per cui non è diciamo auspicabile né buono secondo me fare un paragone con quella partita anche se l'abbiamo rivista per vedere insomma le cose su cui sicuramente non abbiamo lavorato bene che potrebbero riproporsi poi domenica però è chiaro che c'è stata un'evoluzione comunque in quello che è il nostro gioco e quindi diciamo dobbiamo farci forza proprio nel fatto che sicuramente abbiamo qualcosa in più rispetto a quella che era solo la terza partita del campionato e che era in un periodo in cui ancora non avevamo messo a posto tutte quanto le cose. La partita è sicuramente difficile su questo non c'è un ba di dubbio è importante anche per un discorso di classifica siamo in un buon periodo di forma anche se questo non ci deve né illudere né far rilassare perché poi questo campionato ci ha insegnato che ogni partita è una storia a sé quindi dobbiamo sicuramente avere fiducia ma assolutamente non rilassarci questo ombro di dubbio perché la squadra contro cui giochiamo è una squadra che mixa esperienza, vedi pincerato, ha talento, Svetnic, Mambelli quindi una squadra veramente da affrontare con il massimo l'attenzione. Sassuolo squadra ostica, reduce da una sconfitta interna con Club Italia che vanta anche degli elementi di esperienza come dicevi tu ma al contempo è una squadra che ultimamente ha un rendimento altalenante questo non deve trarre in inganno però abbiamo visto sin qui un soverato che specialmente nelle partite in casa pur incontrando delle difficoltà ne è riuscito sempre a venirne a capo. Secondo me Sassuolo ha una classifica un po' bugiarda nel senso che ha 11 punti, ha un po' meno punti di quelli che effettivamente avrebbe potuto e dovuto avere forse proprio in virtù di questa discontinuità che è tipica magari di una squadra giovane profondamente rinnovata rispetto all'anno scorso però è una squadra che gioca molto meglio di quelli che poi sono i punti che in effetti ha in classifica con dei passaggi a vuoto. Noi credo che forse il passo più grosso in avanti è stato proprio nell'affrontare i punti diciamo i momenti no della partita nel senso che prima in questo mostrava un po' più debolezza adesso anche per esempio nell'ultima partita con Olbia dove abbiamo vinto il primo set abbastanza facilmente il secondo set l'abbiamo perso un po' inaspettatamente non ci siamo comunque demoralizzati e non ci siamo persi come abbiamo fatto magari in altre occasioni all'inizio del campionato e abbiamo ripreso subito, ritrovato subito il bando della matassa questo deve essere un po' un punto di forza nella partita di domenica che sarà difficile e che ci presenterà dei momenti di difficoltà non dobbiamo demoralizzarci, rimanere con la testa in partita e sicuramente buon viatico anche per le partite che verranno da qui fino alla fine del campionato Giulia Gibertini, libero del volley soverato domenica si affronta in casa a Sassuolo per continuare questo momento positivo per impinguare ulteriormente la classifica e anche perché no per cercare di ribaltare la sconfitta subita all'andata al tiebreak Buonasera a tutti domenica abbiamo Sassuolo e siamo molto cariche perché è all'andata purtroppo è andata male e in palestra stiamo lavorando tanto per rifarci dalla sconfitta dell'andata Una squadra è il volley soverato che ultimamente sta acquisendo continuità di gioco e di risultati indice del fatto che la squadra cresce gradualmente rispetto alla partita di andata col Sassuolo sicuramente sono cambiate tante cose Sì sicuramente sono cambiate tante cose stiamo lavorando molto di più in palestra ci si conosce meglio tra di noi anche e sicuramente il gioco infatti è migliore e siamo molto contenti ma dobbiamo continuare così Infine siamo alla terza giornata di ritorno della regular season avete affrontato quindi tutte le squadre il tuo giudizio su questo campionato che sta venendo fuori sia sul girone del volley soverato sia sull'altro girone perché poi sappiamo che continuando così andrete ad affrontare le cinque squadre del girone B Secondo me sono due campionati che non bisogna sottovalutare nessuna squadra perché per esempio Mondovì ha perso contro una delle più basse in classifica quindi bisogna sempre pensare ogni settimana alla partita da affrontare al massimo e fare al massimo per vincerla Grazie a tutti